l'easy mando custodia nera per huawei p9 plus questo è il prodotto che vado a recensire insieme a voi quest'oggi la custodia si trova all'interno di questa confezione di plastica trasparente a sua volta all'interno di un sacchettino di plastica sempre trasparente all'interno è presente anche il biglietto da visita dell'azienda una volta in mano la custodia appare veramente piacevole al tatto si tratta di un materiale simile alla pelle sulla parte frontale presente la scritta dell'azienda incisa e le dimensioni di questa custodia sono di 16 cm per 8,5 per un centimetro di spessore si tratta di una custodia libretto con chiusura con calamita sulla parte destra è presente l'alloggiamento in plastica dura che però non va a coprire la parte superiore quella inferiore del nostro device sulla parte a sinistra abbiamo presente una tasca grande dove andare inserire le nostre banconote mentre abbiamo presenti due piccole taschine per andare inserire le carte di credito e un'altra piccola taschina per andare a inserire la nostra carta di identità o foto nel complesso una custodia dal design sobrio elegante inoltre sulla parte posteriore sono presenti le feritoie in corrispondenza di fotocamera e flash